Pachino, Prefettura e Redosea applica a legge Severino Aldo Russo sospeso da cariche di consigliere e assessore. Con il decreto del 3 aprile 2023 il Prefetto di Siracusa, Giudice Scaduto, ha disposto alla sospensione di Aldo Russo dalle cariche di consigliere e assessore con delega nelle seguenti materie affari generali, trasparenza e legalità, polizia municipale, servizi cimiteriali, anagrafe e canina, servizi sociali, bilancio, tributi ed entrate del Comune di Pachino a essenza della cosiddetta legge Severino. Proprio di vento in conseguenza della decisione del GIP del Tribunale di Ragusa che con ordinanza 3 aprile scorso ha convalidato l'arresto e disposto alla misura degli arresti domiciliari nei confronti del Prefetto amministratore ritenuto responsabile del reato di concussione. Avevano appena intascato una mazzetta, arrestati nella mattinata del 13 marzo scorso in frequenza di reganto per concussione dalla squadra mobile di Ragusa e il vice sindaco di Pachino Aldo Russo, un ex funzionario comunale. La concussione sarebbe venuta ai danni di un imprenditore del ragusano che si era rivolto al Comune a Reduseo per alcune pratiche. L'arresto è venuto a Polsallo e determinante sarebbe stata la collaborazione della vittima. Aldo Russo era uscito dalla giunta a seguito dell'azzeramento disposto dalla sindaca Carmela Petrovito che aveva annunciato dimissione poi ritirata.